Delle circa 1800 nascite registrate nel 2015 al Policlinico Umberto I di Roma, ben 350 erano ad alto rischio, tra prematuri, sottopeso e parti plurigemellari. Queste cifre, unitamente agli elevati livelli di professionalità del personale impiegato, ne fanno il centro hub di riferimento della macroarea 1, indicato dalla rete perinatale della Regione Lazio. Sempre lo scorso anno, all'UOC neonatologica del nosocomio si è affiancata l'unità del servizio di elitrasporto neonatale che ha già effettuato dall'inizio dell'attività ben 783 trasferimenti salvifici all'interno del territorio regionale. Un settore complesso, quello della neonatologia, di cui si è discusso durante l'undicesimo convegno nazionale di settore. La neonatologia è quel settore della pediatria che si occupa dell'assistenza del bambino nel primo mese di vita. Questo periodo è uno dei più delicati della vita di un individuo. Ora, negli ultimi anni, noi, grazie al miglioramento delle conoscenze e delle tecnologie, abbiamo avuto una notevole diminuzione della mortalità infantile. Oggi ha raggiunto dei livelli che sono senza dubbio migliori di altri paesi avanzati come quelli della Francia, della Germania e del Regno Unito. In molte unità di terapia intensiva neonatali hanno dei risultati paragonabili ai migliori centri internazionali. Ma va anche detto che in Italia esistono delle profonde diseguaglianze e che la mortalità neonatale nelle regioni meridionali è del 30% più elevata rispetto alle regioni settentrionali. E questo, senza dubbio, è un aspetto che dovrà essere prossimamente corretto. In che modo? Quali sono le cause? Allora, a mio avviso le cause sono legate ad un problema di tipo organizzativo. In Italia, soprattutto nelle regioni del sud, sono ancora troppe numerose le piccole maternità. Tenete presente che circa 40.000 neonati, pari all'8% di tutti i nati italiani, nasce in piccole strutture dove si hanno meno di 500 parti all'anno. Molto spesso queste strutture non hanno le attrezzature e soprattutto il personale idoneo ad affrontare delle situazioni di emergenza, per la mamma e per il bambino. Qual è in questo senso l'attività del Policlinico Umberto I? Il Policlinico Umberto I è un centro di riferimento nell'ambito della regione Lazio. Noi abbiamo un centro che raccoglie le gravidanze a rischio, dal momento che molto spesso queste donne partoriscono dei bambini con dei problemi nel primo periodo neonatale. Solo per dare un'idea, l'incidenza della prematurità, che intendendo con questo termine i nati che nascono prima di 37 settimane di età gestazionale, nella popolazione sono del 7%, nel Policlinico sono il 20%. Noi abbiamo ugualmente un'alta incidenza di nati da gravidanze plurime e il 7% di tutti i nati sono gemelli. Va tenuto presente che i gemelli nella metà dei casi sono nati prematuri e il rischio per un gemello di nascere con un peso inferiore a 1.500 grammi è circa 10 volte superiore ad un nato da una gravidanza singola. Nel Policlinico una particolare attenzione viene data anche ai nati da donne con infezioni per i natali. Quindi noi seguiamo molti bambini di donne che hanno acquisito un'infezione durante la gravidanza, come l'infezione da citomegalovirus, da toxoplasma o da altre malattie infettive che possono insorgere nel periodo per i natali. Qual è la consapevolezza del pubblico rispetto a queste problematiche e quindi anche l'accesso alle cure? Oggi diciamo che è migliorata ma esistono molti aspetti che vanno senza dubbio migliorati e vanno soprattutto nella comunicazione. Faccio riferimento soprattutto alle popolazioni più a rischio. Nel Policlinico nascono il 30% dei bambini sono nati da donne straniere. Molto spesso queste donne, per una serie di motivi, non vengono adeguatamente eseguite durante la gravidanza. Un'indagine che noi abbiamo fatto nel Lazio qualche anno fa ha messo in evidenza che i nati da donne straniere, per esempio, hanno un rischio di avere dei bambini prematuri che è di circa due o tre volte superiore rispetto ai nati di donne italiane. Nonostante che le donne straniere abbiano mediamente tre anni di meno al parto, quindi pur essendo teoricamente a minore rischio, partoriscono dei bambini con più frequenti patologie. Avanguardie raggiunte, altrettanta strada ancora da fare per una sanità nazionale che, pur brillando d'eccellenza, fa i conti con una scarsità di risorse inversamente proporzionale alle esigenze crescenti. Sanità pubblica italiana, quale presente e quale futuro? Il presente è problematico, il futuro speriamo che sia migliore se facciamo le scelte giuste, che però devono partire dai dati di fatto. Siamo il paese più vecchio del mondo, abbiamo molti anziani e pochi bambini e siamo un paese che ha dei problemi economici. Allora noi dobbiamo cercare di ridurre gli sprechi che oggi abbiamo in tanti settori e di indirizzare tutte le risorse che riusciamo a recuperare a investire proprio nella salute degli anziani e della salute dei bambini, contemporaneamente. Quali a suo avviso le prime criticità da risolvere? Innanzitutto la grande diseguaglianza che c'è in Italia. Oggi una persona che nasca nel sud ha un'aspettativa di vita alla nascita inferiore di quasi 4 anni rispetto a una del nord. Non era così 15 anni fa, quando è stata fatta la prima riforma costituzionale. Questo è il risultato del fatto che le regioni hanno preso delle strade diverse. Molte regioni non hanno saputo gestire bene questa sfida. E allora la prima sfida è fare in modo che in Italia, dovunque si nasca, si possa avere accesso ai servizi adeguati. Quale deve essere allora il rapporto tra governo centrale e singole regioni? Io credo che la riforma costituzionale, così come viene prospettata, è un passo avanti. Nel senso che nell'articolo 117 si dice che la tutela della salute ritorna esclusivamente allo Stato e invece alle regioni rimane la sanità, anzi la competenza esclusiva della sanità. Quindi le regioni che vanno bene, che sono purtroppo per i meridionali quasi tutti al nord, continueranno ad andare bene e a migliorare. Ma quelle regioni del centro sud che non ce la fanno potranno essere finalmente aiutate dallo Stato, soprattutto per i cittadini che vivono in quelle regioni. Un giudizio sul Lazio? Il Lazio è la prima delle regioni meridionali, nel senso che è centro geograficamente, però le performance che ha avuto negli ultimi 15 anni sono state del tutto paragonabili a quelle delle regioni meridionali. Ha perso aspettativa di vita e ha aumentato la mortalità evitabile. Qualcosa ultimamente si sta invertendo, però di fatto non è sufficiente quello che viene fatto per cercare di raggiungere le realtà migliori.